Allora dimmi, partiamo dalla fine. Grande partita del Catanzaro, grande partita tua a Palermo. Ti chiedo se secondo te è stata la tua migliore partita quest'anno. Sì, secondo me è stata la migliore partita da parte di me di quest'anno, ma sono contento soprattutto per la prestazione che ha fatto la squadra. Ha dimostrato che abbiamo un valore grande contro una squadra, come tutti sappiamo, fortissima, con giocatori di alta qualità. Il nostro obiettivo è di continuare su queste prestazioni, perché la prestazione porta al risultato, quindi dobbiamo continuare su questa strada qui. Dalla fine all'inizio, amichevole con la Fiorentina a fine luglio, vediamo il 4-4-2, tu esterno destro ci vediamo, ma su una squadra, insomma come può giocare esterno destro? Poi abbiamo capito che sei un esterno destro falso, perché fai molte cose di quelle che facevi l'anno scorso. Come ti stai trovando? Hai dimostrato, l'hai dimostrato con le prestazioni, con la barri a parte, che la Serie B, in Serie B puoi anche tu dire la tua. Sicuramente io sto cercando di fare quello che mi chiede il mister in allenamento, soprattutto di dare il massimo, perché allenandomi bene mi trovo bene anche ogni sabato contro le squadre di Serie B. Diciamo che mi trovo molto bene, perché basta essere concentrato su quello che gli dice il mister e poi tutto il resto del lavoro viene sabato. Quindi diciamo che ha cambiato rispetto all'anno scorso, abbiamo cambiato un po', ma io mi trovo benissimo. Quindi per me è la stessa cosa, spero di continuare così per dare una mano alla squadra. Si vede che ti trovi bene, soprattutto nelle ultime prestazioni, eri stato anche in panchino qualche partita, poi sei stato riportato in campo in questo ruolo particolare. Che cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno e come ti sembra questa Serie B? Il Catanzaro ha avuto un approccio davvero importante, poi dopo quelle tre sconfitte ha ritrovato se stesso, è vero? Sicuramente il livello della Serie B è altissimo, è anche un campionato molto bello perché come vediamo chiunque può perdere con chiunque, vediamo che il primo può perdere con l'ultimo. Quindi questo cosa ci vuol dire che bisogna non abbassare la concentrazione perché sicuramente in queste categorie ti puniscono. E' quello che abbiamo cambiato dall'anno scorso, la mentalità, perché sicuramente l'anno scorso eravamo talmente più forti degli altri, ma sappiamo che quest'anno non è così. Troviamo molte squadre di livello alto, squadre che piace storiche, squadre con giocatori di alto livello, quindi bisogna essere concentrati perché quest'anno ti puniscono se anche un minuto perdi la tua concentrazione. Siete quarti in classifica, avete fatto più punti di squadre con giocatori che hanno giocato in Serie A in Europa, di società che spendono molto più del Catanzaro. Qual è il vero segreto, e siete per larga parte la squadra che l'anno scorso ha vinto la Serie C, qual è il vero segreto secondo te di questo Catanzaro che vola? Sicuramente il nostro segreto è il gruppo, perché abbiamo un gruppo straordinario, anche l'anno scorso secondo me il nostro punto di forza è stato questo, di avere un gruppo di ragazzi meravigliosi, è quello che ci ha portato a vincere il campionato. Quest'anno è la stessa cosa, però il lavoro che facciamo dall'inizio, dal luglio fino a oggi è un lavoro straordinario, quindi diciamo che il lavoro paga, quindi bisogna continuare così. Quanto ti soddisfano le tue prestazioni in Serie B dopo che a Perugia non ti avevano dato possibilità di metterti in mostra? Sicuramente sono soddisfatto da una parte perché anche a Reggio è stata la stessa cosa, quindi non darti la possibilità per una o due volte, io nella mia testa sempre ho avuto l'obiettivo di arrivare dove sono adesso, quindi il modo di non molare mi soddisfa tanto perché questa è la mia mentalità. Sì, allora, che cosa è cambiato nel tuo ruolo quest'anno? Anche perché è cambiato il modulo, l'anno scorso è un 3-5-2, quest'anno è un 4-4-2 con un approccio diverso che si sta piano piano sempre più adeguando alla categoria, vero? Sì, sicuramente è cambiato perché tante volte mi trovo in ampiezza sulla linea a destra, diciamo. Sicuramente è cambiato anche il modo di difendermi perché come sappiamo tutti, come ho detto prima, la Serie B è un campionato di alto livello, quindi ti devi difendere, devi aiutare il compagno dietro. In Serie G non era così. Diciamo che quest'anno abbiamo migliorato anche questo, la fase difensiva, molto perché avevamo bisogno di migliorare la nostra fase difensiva e penso che siamo in un buon livello sotto quello punto di vista. State facendo vivere ai tifosi notti magiche come quella di Palermo, pomeriggi magici come quello del derby, e ci sono state tante altre partite prima. Dal tuo punto di vista personale, qual è stata la partita più bella che il Catanzaro ha vinto quest'anno? Sicuramente è stata la partita contro il Cosenza perché abbiamo fatto tre sconfitte consecutive, poi sentivamo che i tifosi, anche noi, ci tenevamo tanto di fare il risultato contro il Cosenza perché sappiamo tutti che è un derby speciale per loro e penso che è stata la partita più bella perché abbiamo regalato la vittoria ai nostri tifosi che secondo me è stata la cosa più importante questa, di regalare queste emozioni ai nostri tifosi. Le ultime quattro partite del giro dell'andata, sabato arriva il Pisa, squadra fra quelle che spendono molto di più del Catanzaro che è partita con altre ambizioni che però si trova un po' dietro ad arrancare, quali sono le insidie di questa gara? Sicuramente sarà una partita difficile come sappiamo perché Pisa è un'ottima squadra con giocatori di alto livello. Noi stiamo preparando questa settimana la partita di quello che dobbiamo fare. Come ho detto prima non sarà facile però se manteniamo la concentrazione alta che abbiamo fatto le ultime due partite penso che faremo un'ottima partita.